Impressionante video realizzato da due apneisti da record, loro sono Cristina e Eusebio Suánez de Santa Maria e sono riusciti a concretizzare il loro sogno, nuotare in immersione profonda le BAMAS con gli squali tigre. Cristina, australiana, è una tra le migliori apneisti al mondo, mentre Eusebio, spagnolo, può emergersi fino a una profondità di oltre 100 metri. In queste riprese gli squali non si preoccupano minimamente delle evoluzioni del SUB, che però sta invece molto attento a non fare movimenti azzardati vista la vicinanza con le creature più temute del mare. Grazie Grazie